Vincenzo Di Natale di Sapito, l'azienda di Pachino, che produce dei pomodori particolari. Cosa c'è di nuovo in questo tipo di produzione? Allora, noi produciamo i nostri pomodori in idroporica, se sono fuori suolo. Cioè le piante crescono fuori dalla terra, vengono allevate in un substrato che è fatto con una parte esterna del cozzo. E questo ci permette di garantire lo standard di produzione e con le acque salmastre che abbiamo nelle nostre piante, otteniamo dei prodotti che sono qualitativamente superiori dal punto di vista del gusto e della dolcezza. Quindi è un'azienda di famiglia che prosegue da oltre tre decenni? Sì, esatto. C'è mio nonno, mio padre e io dopo gli studi sono rientrato dall'estero e ho continuato l'attività di famiglia.